Questa season signori il team Calpis farà cose veramente devastanti su Fortnite E oggi siamo qui per fare il mio record personale di questa season Io mi sento che sarà una partita veramente assurda Intanto c'è stato pure l'aggiornamento dei 5 anni di Fortnite Hanno aggiunto un sacco di cose tra cui questa pistola pirotecnica e anche la pizza Quindi direi che ce la possiamo pappare subito Già trovato due chi... Ah porco cane, no 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 no, fermi Ok, meno male che ho trovato la pizza raga Vabbè questo qua è un abbone, ce lo uccidiamo super super easy Ho già trovato due bellissime chiavi e ci apriamo subito il bunker Anche se c'è gente Ma noi siamo temerari e non ce ne frega assolutamente nulla Eccolo qua, 122, hoplap No poverino, questo qua mi sa che voleva fare team Però vabbè lo distruggiamo lo stesso Oh my god raga, quanto lutto assurdo Consiglio, se dovete aprire il bunker dovete buildare un pochettino come ho fatto io Così la gente avrà meno spazio per rompervi le scatole da dietro Anche se probabilmente ci riuscirà lo stesso Quindi state attenti Io intanto raga ho una paura Eccoli Ah ok, 120.000 Perfetto, è morto raga No non è vero, c'è un altro tizio da dietro Oh cavolo, no 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 no, molto male molto male molto male molto male Fermi tutti Devo uscire, devo uscire raga Aspettate Boom Ok perfetto Direi che siamo usciti abbastanza bene E adesso possiamo anche rientrare Perché non c'è nessuno Credo Opla Mega big shieldone Qua abbiamo un sacco di pizze Abbiamo un sacco di queste cose Io raga credo che mi terrò questo loot Perché la pizza secondo me è super ottima per farsi le cose subito E la mitraglietta a fuoco rapido Ehm No dai proviamo la mitraglietta silenziata Nemico qui Opla Morto Un'altra kill per noi signori Vai così Qua ce n'è un altro E lo uccidiamo subito Mamma mia Mamma mia Ma quanti sono forti Un altro qui 40 Boom Editiamo Oh cavolo missato Ma lo dovremmo uccidere In men che non si dì In men che non si dì Opla perfetto Un altro tizio qui raga Oggi vogliono tutti morire dalla furia Incessante di Mega Calpis No avevo il pompa scarico Non ci credo Che sfiga Appena rompe Vabbè ci facciamo la pizza con tutta Tranquillità Perché adesso faccio così Ma perché ho sempre il pompa scarico Cioè ok che me lo uccido lo stesso Però Un altro nemico qua che vuole morire Opla Aspetta andiamo subito ad ucciderlo ragazzi Pure lui Vieni qua bro Vieni qua bro E vabbè ma questo qua bilda come se fosse Non lo so Trump col muro Vieni qua Ok Trick E opla Ucciso let's go Un altro tizio ragazzi Ma oggi mi vogliono fare proprio il record di kill Vogliono farmi fare il record Opla Dove è il tizio? Lo vedo qua sotto Bro io ti vedo Ti vedo Non puoi nasconderti da Calpis Eh certo Certo Un altro tizio Ma vabbè raga Ma sto pompa? Ma sto pompa Quanto è forte Il fucile pesante e armato Raga è allucinante Qua c'è un altro ragazzino che le vuole prendere A quanto pare Quindi Dato che le vuole prendere Noi Gliele diamo Allora Vieni qua ragazzino che le vuole prendere Io Se tu vuoi prenderle Non ho niente in contrario Guarda Te le do tranquillamente Opla Cappuccetto rosso Ci siamo pure presi la taglia E abbiamo Dieci kill E ci stanno ancora Ventitré persone Raga possiamo fare tante di quelle kill In questa partita Tizio qua dietro Opla Trenta Anche il fucile a martello Raga è un'altra arma Che vi consiglio tantissimo In questa season Perché è veramente Allucinante Allucinante Troppo forte Veramente Quindi Questo qua si vuole buildare Perché si vuole curare E noi Lo Li rompiamo subito Le gambe Questo qua è forte raga È forte ma Purtroppo Ci morirà Dalla furia Del codice calpi Insomma vabbè Quelli che riescono A stare dietro È molto difficile Secondo eh Che questo qua potrebbe essere Un po' Una rottura Infatti noi scendiamo Perché non vogliamo Che gli altri ci facciano cadere Magari da altri punti del mondo Bam Gli tiriamo una pistola razzo Che così lo individuiamo Abbastanza bene Vediamo un po' Eccolo qui Trentatré di nuovo E Adesso Lui sa di essere individuato Credo di sì Opla Raga questo qua comunque Ha un sacco di materiali Dove essere Sincero Ritiriamo un'altra cosa Così lo individuiamo Di nuovo Ok Ah raga è tosto eh Questo qua È davvero forte Ah c'è pure la safe John Quanto è che fa? Fa due tra un po' C'è uno sotto Ma che cavolo Ok fermi tutti raga Lui non sa che sono qua Credo O sì No credo che lo sappia Quindi dobbiamo andare via Subito Individuiamo dove sono i nemici Ok Questo qua È qui davanti Quindi Lo uccidiamo subito Che è Goku Sperando Abbia qualcosa per la vita Non ha nulla per la vita Quindi dobbiamo Trasformarci in palletta Andiamo qui Saliamo sulla macchina E andiamo via Andiamo via Andiamo via Prima che moriamo dalla safe Uh No 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 Ok siamo vivi Siamo vivi Siamo vivi Quindi direi che L'alberello bello Possiamo usufruirne tutto raga Prendiamo i funghetti Poi Le radici Così crescono I fi Le frutta La frutta Insomma Quello lì Ok Ed è l'arma mitica Seriamente Però mi sa che non cresce ora Vero Porca vacca Ma mi dice frutto mitico No non ci credo No non posso prenderlo Ma è uno scam assurdo Qui davanti C'è qualcuno Che vuole morire Oddio Quello lì l'abbiamo demolito Eh anche qua sopra C'è gente però Qua E qua dentro Oh cavolo ha messo la scala No Non ci credo Non ci voleva raga Provo a rubargli qui Eh raga Ma è bravino eh Ha pure preso la La cosa La pizza Però io ho preso un sacco di materiali E adesso prendo questa cosa qui Ok buono buono Siamo messi bene Eh vabbè Mi hanno cecchinato dall'altro lato del mondo Ma stai scherzando No 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 Raga Cioè non ci credo Che sfiga Mi hanno cecchinato Non riesco a prendergli le robe a sto qua Ok Opla Ok finalmente adesso Ci morirà probabilmente Raga sto ragazzo Perché sto qua sta solo editare Ma non è bravo Eh vabbè ma pure il coso Ma che sfiga Ah c'è uno sopra di me Perfetto Cioè ragazzi Se vinco sta partita Voglio 100.000 like Perché Sta Cioè è veramente Difficilissimo Tra gente che mi cecchina Gente assurda Strana Ok Craccato pure quello lì di nuovo Ai cadi bro Sì sì che cade Sì che cade Sì che cade Quello lì lontano Oh mio dio Uh Ok perfetto 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 Raga 12 kill 5 persone rimanenti Qua si può fare Tanta roba Tanta tanta roba Ok Perfetto Qui l'abbiamo preso E l'abbiamo bloccato Quindi ci morirà così Perfetto E mi rubo anche Il suo Eh Ciagghettino delle splash Che è molto 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 interessante Siamo rimasti In 4 E uno è qui davanti Quindi lo andiamo Subito ad uccidere Trovato pure il vampa fucile Della Della Raldo Quindi raga Va di bene In meglio Onestamente Aia Questo qua raga Pure un altro forte Potremmo morire Però sarebbe stata Lo stesso una bella partita Boom No Porco cavolo No Vieni qua bro Vieni qua bro Mamma mia raga Con quest'arma E vabbè Mi ha fatto male Mi ha fatto male No 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 più materiali Aiuto Aiuto No 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 Fermi 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 Rientriamo dentro Rientriamo dentro Rientriamo dentro Non possiamo entrare dentro Aiuto Adesso bisogna giocarcela Di astuzia raga Dobbiamo essere astuti E non farci vedere dalla gente Tipo Questo qua è un tizio Potremmo ucciderlo Non sa che sono dietro di lui Potrebbe essere un po' un pirla Gli spacchiamo qua sotto Vai bro Raga quest'arma per distruggere i muri È qualcosa di allucinante E lui non sa che sono Mezzo one shot quindi molto bene Oh morto Let's go dammi i materiali Ok buono buono Ah Aiuto No 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 fermo L'han cecchinato Oh mio dio ok è un 1v1 E adesso raga pronti alla vittoria Con 15 kill nella nuova stagione Di fortnite 3 2 1 Aspettate no 3 2 1 3 2 1 Non ce la faccio 3 2 1 3 2 1 Bro 3 2 non ce la faccio raga È troppo complicato Vieni qua Vieni qua king Vieni qua Vieni qua bro No sono morto Sono un pollo Sono un pollo Nooo No 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 no